Siamo durante la seconda edizione dei P&D Milano Cotin Days, al Museo della Scienza e della Tecnologia intitolato Leonardo da Vinci e riteniamo la sede perfetta per approfondire i temi dell'innovazione tecnologica in un campo manifatturiero molto importante in Italia che è quello dei trattamenti delle superfici. P&D Milano Cotin Days nasce con l'ambizione di essere un punto di riferimento a livello nazionale ma di respiro internazionale per la filiera della verniciatura industriale. Il formato innovativo a metà tra esposizione e convegno è volto a valorizzare i contenuti offerti dalle aziende nella Due Giorni, un modo per fare il punto della situazione sulle innovazioni e sullo stato dell'arte dei prodotti e delle tecnologie disponibili all'interno del mercato della verniciatura industriale. L'innovazione di quest'anno è rappresentata dall'introduzione di corsi di formazione professionale a completamento dell'offerta dell'evento. L'innovazione di quest'anno è rappresentata dall'evento.